Si avvicina un fine settimana dolcissimo per Bormio. Questo sabato le antiche corti del centro storico della magnifica terra si riempiranno di profumi e sapori, tutti da gustare, all'insegna delle tradizioni antiche e dei prodotti tipici locali. Un tour gastronomico che ripercorre il reparto Buglio, da via Pedranzini a via Bardea, nella quale gli ospiti potranno assaporare per le battezze di ogni tipo, dalla bisciola alle torte di grano saraceno, dal miele di montagna alla ricolta d'alpe, accompagnate anche dalle tisane, grappe e amare locali, tra cui l'immancabile Braulio. Un momento da non perdere per i più golosi, che sarà reso ancora più dolce, grazie alle note della filarmonica Bormiese, che accompagnerà con i suoi light motive i partecipanti lungo il percorso. Un appuntamento che di anno in anno sa attirare sia turisti che abitanti della zona, i primi con l'intento di scoprire le prelibatezze della Valtellina, i secondi invece per riasaporare le bontà con cui sono cresciuti. La serata dei dolci è l'appuntamento che apre la rassegna tradizioni e mestieri in piazza, che seguirà la magnifica terra per tutta l'estate. Sabato 6 agosto, nel centro storico di Bormio, sarà la volta della serata dei vini, nel corso della quale le più importanti case vitivinicole del territorio prenderanno possesso di alcune corte storiche, dove esperti e semplici appassionati potranno degustare i rossi valterinesi, tra cui Sassella, Grumello e Sforzato, il re dei vini valterinesi. Il 20 agosto invece la suggestiva serata alla Scur, in cui le luci del centro storico saranno spente per lasciare spazio alla scoperta delle antiche corti cittadine a lumi di candela.